Ecco le entrate in campo, sono le 10 e mezza, gara RIPA 2007, Virtus Castell30, valevole per la categoria giovanissimi. Facciamo un nuovo campo, poi ci spaviamo dal cerchio, facciamo un gioco. La squadra ospite, non riesce a scendere adesso in luce. Il buco è lungo, è lungo, non riesce a scendere, facciamo un gioco. E' un buco è lungo, è lungo, è lungo ma, è lungo. È lungo senza lungo, è 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 lungo. Ok, fatti il grido così non ho più riprende. C'è un minuto di raccoglimento. Ok, fatti, fatti. Ok, fatti, fatti.